Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online a cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Parliamo oggi di audiolibri, in particolare parliamo di come addentrarsi nell'avventura editoriale se vogliamo pubblicare il nostro primo audiolibro e lo facciamo grazie alla domanda di Martina Amato. Chi è Martina Amato? Martina Amato è una studentessa al terzo anno di Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Bene, Martina sta facendo una tesi incentrata sugli audiolibri nel panorama italiano e facendo qualche ricerca online si è imbattuta in una puntata di Strategia Digitale dedicata a pubblicare audiolibri. Abbiamo fatto una puntata sugli audiolibri e sugli ebook in self-publishing. Bene, grazie alla magia di Google Martina è entrata in contatto con il sottoscritto. Mi ha mandato un'email e a sua insaputa, lei non sa niente, un giorno ascolterà questo episodio e da lì potrà trarre le sue informazioni, mi ha scritto e mi ha fatto delle domande sugli audiolibri. Ho deciso di risponderle pubblicamente per due motivi. Numero uno, perché le domande sono molto interessanti e possono portare un valore anche a voi altri ascoltatori di Strategia Digitale e quindi perché non condividerle. Numero due, perché se è vero che la magia del digital ha portato in contatto me e Martina, un giorno questo episodio potrà essere utile a qualcun altro che magari lo userà come un punto di partenza per sviluppare un suo studio, un suo business, una sua idea. Ed è questo il bello del digital utilizzato in maniera consapevole, che possiamo costruire sulle spalle degli altri e progredire più velocemente, non stando chiusi ognuno nel proprio recinto, ma condividendo apertamente la nostra conoscenza, la nostra esperienza, il nostro vissuto, le nostre emozioni per crescere di più e più velocemente insieme. Allora tuffiamoci nella puntata di oggi, non prima di aver scoperto lo sponsor di questa puntata. Questo episodio di Strategia Digitale è offerto da Storytel e devo dire che capita proprio a Cecio, perché Storytel è il Netflix degli audiolibri. Parliamo di audiolibri, Storytel è il luogo dove puoi andare e trovare centinaia, che dico centinaia, migliaia, che dico migliaia, decine di migliaia di libri di tutti i tipi, letti da voci bellissime che ti permettono di avere la stessa esperienza d'ascolto che hai con i podcast, avendo accesso a tantissimi libri che non hai mai il tempo di leggere. Io personalmente ho scoperto Storytel grazie a mia moglie, Santa Donna, nel 2018, che me l'ha presentata come una cosa fighissima che aveva scoperto e poteva utilizzarla a scuola con i bambini e poteva proporla alle nostre figlie. Ebbene, da quel momento ho scoperto proprio un mondo. L'altro giorno stavo così curioso andando a esplorare. Di solito, quando si tratta di libri, non hai mai il tempo per piangere, come si dice. Cioè, stai sempre indietro che devi trovare il tempo per leggere. Mentre, grazie a Storytel, leggi attraverso l'ascolto molto di più di quanto faresti normalmente. E così mi sono messo a curiosare tra i consigli, cosa che non faccio mai. E invece mi è andata bene, perché ho trovato nei consigli all'interno di Storytel, quindi c'è una sezione dedicata ai consigli, una sezione con una playlist che ho scritto Hai visto il film? Sì, ma preferisco l'audiolibro. La frase tipica, no? Hai visto il film? No, preferisco il libro. Ecco qua, stavolta c'è l'audiolibro di mezzo. Scorrendo, ho trovato, oltre a un libro che avevo già ascoltato con le mie figlie in un bellissimo viaggio in Toscana, poi te lo racconterò un giorno, quello su Mary Poppins, fantastico. E ho trovato A Beautiful Mind, la versione libro, anzi audiobook, di A Beautiful Mind. Un film che mi è piaciuto moltissimo. E qui ce ne sono tantissimi, da Lobbit, neanche a commentarlo, fino a Harry Potter e la pietra filosofale, magari proprio anche in inglese, così se hai dei ragazzi adolescenti a casa possono fare un po' di allenamento su un tema che gli piace, il grande Gatsby, che ti posso dire, Revolutionary Road. Insomma, ce ne sono tantissimi. Quindi una collezione di tutti i libri dai quali sono stati tratti i film in versione audiolibro. Bene, dicevo che Storytel è come Netflix, oggi parliamo pure di audiolibro applicato al cinema, ma secondo me è meglio di Netflix, perché oggi, per esempio, ho visto un episodio di una serie Netflix mentre mangiavo, a un certo punto ho finito il pranzo e ho detto ma ho mangiato? Cioè non me ne sono proprio reso conto che stavo mangiando perché avevo gli occhi puntati su quello che stavo vedendo. Ecco, questo non è molto buono, no? Perché non ci permette di apprezzare quello che stiamo vivendo perché siamo concentrati su un'altra cosa. Al contrario, l'ascolto, e questo se ascolti i podcast ne hai esperienza, ci permette di fare due cose contemporaneamente, ma apprezzando appieno tutte e due e così è con l'audiolibro. Allora, ci sono due cose delle quali vado particolarmente fiero. La prima è che Storytel ha deciso di sostenere con la sua sponsorizzazione il festival del podcasting. Questo vuol dire che se il 12 ottobre sarai a Milano e parteciperai al festival del podcasting se sei andato a iscriverti su festivaldelpodcasting.it potrai conoscere le persone che stanno dietro a Storytel e mischiare il mondo dell'audiolibro a quello del podcast trovo sia una cosa geniale. Quindi se ci sei vieni a conoscerli, se non ci sei ti perdi qualcosa. Numero due, sono contentissimo che abbiano deciso di sponsorizzare Strategia Digitale perché mi danno la possibilità di farti un regalo. Posso regalarti una prova gratuita di 30 giorni. 30 giorni non è poco perché è il doppio di quanto le persone che vanno a provare Storytel hanno andando sul loro sito. Quindi come devi fare? Vai su storytel.it slash strategia digitale. te lo sei dimenticato non c'è problema ti metto il link nelle note dell'episodio da lì ti potrai iscrivervi scaricare l'app e beccarti 30 giorni tondi tondi di audiolibri completamente gratis se poi decidi che fa per te puoi continuare l'abbonamento se invece non fa per te lo disdici senza nessun vincolo non caccio un euro amici come prima ma io credo che i libri ti appassioneranno perché diventa un modo di sfruttare il tanto tempo che abbiamo quando facciamo attività sportiva ti sei rimesso pure te in palestra buttar giù qualche chilo ecco mentre stai là addirittura so che il mio collega professor Massimo De Santo di Digitalia ascolta i libri, gli audiobook mentre nuota quindi persino in piscina ci sono tanti momenti della nostra vita in cui abbiamo gli occhi occupati ma le orecchie e il cervello liberissimi allora puoi approfittare di questa possibilità per leggere libri in più e se poi non hai la connessione internet in palestra nessun problema perché i libri li puoi leggere anche offline li puoi scaricare vai subito a cliccare nelle note dell'episodio per provare Storytel e se ti va mandami un messaggio per dirmi che cosa ne pensi grazie di cuore a Storytel per aver sponsorizzato questo episodio di Strategia Digitale audiolibri dicevo Martina Amato mi ha scritto vediamo vado a recuperare la sua email mi dice buongiorno sono Martina Amato studentessa del terzo anno di Scienze Umanistiche per la Comunicazione a dicembre mi laureerò e la mia testi sarà incentrata sugli audiolibri nel panorama italiano mi piacerebbe mettermi in contatto con voi in seguita alla visione del video YouTube pubblicare audiolibri su Audible e iTunes e ricevere qualche informazione le allego al file una serie di domande che avevo pensato di porvi mi sarebbero d'aiuto per la scrittura delle tesi grazie per l'attenzione grazie a te Martina per le domande la prima domanda è come nasce la vostra idea di audiolibro e qui devo fare una premessa Giulio hai mai pubblicato un audiolibro? la risposta è sì ho pubblicato l'audiolibro di un libro che ho scritto su YouTube YouTube per il business e l'editore di questo libro per la versione ebook Area 51 Publishing che ringrazio e saluto mi ha proposto dopo un po' di creare anche l'audiolibro la cosa mi ha stuzzicato perché mi piace sempre sperimentare cose nuove quindi la mia esperienza di audiolibro per come ne parlerò rispondendo alle domande di Martina è focalizzata su questa esperienza qua la pubblicazione di un audiolibro tramite un editore professionista questo editore è specializzato in pubblicazioni digitali quindi ebook e audiolibro infatti i diritti del libro ho tenuto quelli del cartaceo che ho pubblicato in maniera autonoma e ho ceduto all'editore i diritti dell'audiolibro e della versione ebook l'audiolibro è stato pubblicato ed è stato reso disponibile su Amazon quindi cosa succede una volta all'anno mi arriva un report delle vendite attraverso Amazon e anche in realtà attraverso iTunes e posso vedere come stanno andando gli audiolibri in più quando vai magari ti metto il link nel noto dell'episodio così vedi quello di cui stiamo parlando quando vai a vedere la pagina del libro youtube per il business su Amazon hai la versione in copertina copertina flessibile diciamo in paperback quella cartacea poi hai la versione ebook e hai la versione audiolibro questo audiolibro è presente anche all'interno di audible quindi come nasce la mia idea di audiolibro ti posso dire come perché per me quell'audiolibro ha creato un punto di interesse perché ha creato un valore in più rispetto al libro bene l'idea nasce dal fatto che la maggior parte delle persone che ascolta il sottoscritto lo fa appunto attraverso l'udito attraverso il podcast strategia digitale stiamo parlando di decine di migliaia di ascolti ogni mese e perché non veicolare attraverso l'ascolto anche i contenuti di un libro perché non c'è un buon motivo infatti ho detto bene tutti gli ascoltatori di podcast sono tutti potenziali quelli interessati a youtube ascoltatori anche dell'audiolibro andiamo subito a creare un audiolibro quindi la mia idea di audiolibro nasce dall'utilizzo della voce per il podcast come un canale di flusso come un costante rapporto con chi sta dall'altra parte con la community di strategia digitale e del libro come la creazione di un contenuto editoriale avanzato più stabile con un format preciso anche più godibile nell'ascolto si sta affrontando uno studio sistematico seconda domanda cosa rappresenta l'esperienza dell'audiolibro rispetto al libro cartaceo e qui è interessante perché ho notato che molte persone hanno acquistato il libro dopo aver ascoltato l'audiolibro su Audible Audible perché non lo conoscesse è la piattaforma per l'ascolto di audiolibri di Amazon un po' come Storytel come se tu ascoltassi un audiolibro su Storytel e poi vai e ti compri il libro alle mie figlie questo lo faccio spesso magari leggiamo la versione digitale sul Kindle mentre stiamo in Australia sull'aereo in giro per il mondo e poi proprio qualche giorno fa sono andato alla Feltrinelli ho comprato in versione cartacea alcuni libri che abbiamo letto quest'estate in giro per il mondo perché loro li potessero conservare potessero conservare l'oggetto libro potessero risfogliarlo la piccola guardare le figure la grande avere il gusto di portarlo a scuola di prestarla a un amico quindi secondo me l'esperienza dell'audiolibro da una parte è l'esperienza più comoda e flessibile perché ti permette di godere dell'audiolibro e di quel contenuto averne accesso ottimizzando i tempi della tua vita quindi ascoltandolo mentre vai a portare fuori il cane fai l'attività sportiva lavi piatti la sera cucini fai quello che ti pare dall'altra parte l'audiolibro lo vedo anche a braccetto con il libro cartaceo possedere il libro cartaceo l'andare a ripescare dopo aver ascoltato l'audiolibro nel libro cartaceo alcuni tratti che ci hanno interessato l'utilizzare il libro cartaceo di pari passo con l'audiolibro è qualcosa secondo me di estremo valore magari qualcuno potrebbe dire uè Gaudiano ma che va vai a spendere i soldi per il libro cartaceo che ti sei già comprato l'audiolibro ecco ma questa cosa che ho detto io non è solo una mia idea ho scoperto che è anche un'idea di Amazon Amazon ha un programma che ti permette quando acquisti un audiolibro di ascoltare l'audiolibro e contemporaneamente di vedere la pagina del libro associata all'audiolibro in versione digitale quindi Amazon vede proprio l'esperienza come un'unica esperienza la lettura supportata dall'ascolto devo dire poi soprattutto nel mondo della scuola dell'infanzia della primaria io lo conosco un pochino attraverso le mie figlie che tanti bambini ormai si è capito che o sei intelligente o sei stupido o capisci le cose al volo o non le capisci e sei tonto si è capito che gli esseri umani portano le informazioni dentro di loro in mille modi possibili che c'è tutto il mondo da scoprire su come il mondo di là fuori entra dentro di noi e molte persone assorbono molto meglio attraverso l'ascolto altre persone assorbono molto meglio attraverso la lettura altre utilizzano il massimo del potere dal mix di questi canali e allora credo che l'esperienza dell'audiolibro non sia da vedere in contrapposizione rispetto al libro cartaceo ma in integrazione rispetto al libro cartaceo mi permette di accedere ai contenuti del libro in maniera più flessibile o mi permette di godere ancora di più del possesso del libro della sua consultazione supportato da un altro canale di comunicazione terza domanda come viene realizzato un audiolibro e qui ci facciamo due risate allora io personalmente ho realizzato l'audiolibro semplicemente facendo una sessione di registrazione sono andato a Roma negli studi di radiospeaker.it in Viale Mazzini mi sono messo lì nella saletta di registrazione col microfono puntato addosso il bravissimo fonico di radiospeaker.it mi ha detto vado con la registrazione quando vuoi e se n'è andato è uscito dalla stanza quindi stavo lì io con il mio libro nella stanzetta e leggevo semplicemente mettendo una pausa tra un capitolo e l'altro tra una una sezione e l'altra avendo la possibilità di fare tutte le pause che volevo e marcando con la voce i le sezioni del libro quindi dicevo capitolo primo e leggevo il titolo del capitolo primo e poi iniziavo a leggere se facevo un errore riprendevo dicevo errore e riprendevo da dove avevo iniziato a leggere prima di sbagliare questo materiale questo materiale audio tutto intero due ore di registrazione è incredibile quanto ci si mette poco a creare un libro letto uno pensa oddio sono 20 giorni che leggo un libro in realtà se ti metti là lo leggi senza fermarti ci si mette molto poco bene questo materiale questo lungo file audio che il tecnico di radio speaker ha salvato l'ho preso e l'ho mandato paro paro all'editore l'editore si è ritagliato tutti i vari capitoli e li ha impacchettati per la pubblicazione quindi come viene realizzato un audiolibro fondamentalmente c'è bisogno di registrare l'audiolibro io direi metterei uno step prima che io come al solito ho saltato non ho fatto perché sono sempre a passare da un task all'altro ma metterei la preparazione quindi l'impostazione dell'opera riguardando l'indice rendendosi conto un attimo dello stile di comunicazione provando a leggere ad alta voce riscaldando la voce in modo da avere una voce più profonda più interessante più autorevole senti quando fai la voce bassa come sembri più autorevole e poi iniziando la lettura e registrando il file dopo la registrazione c'è il montaggio e la post produzione quindi l'applicazione anche la pulitura dell'audio e l'applicazione di un filtro e soprattutto questo è importante per l'audiolibro l'impacchettamento secondo i vari capitoli perché rispetto a tanti altri contenuti di audio l'audiolibro ha questa particolarità ha una struttura ferrea rigida ha un indice al quale gli audio della lettura devono sottostare nel quale devono perfettamente incastrarci e oggi come oggi ci sono delle altre possibilità dici io non ce l'ho l'editore che mi fa questo lavoro ecco tra poco ti dico come si può fare rispondendo ad un'altra domanda domanda successiva come vengono scelti i vari lettori io ti dico Martina secondo me l'audiolibro soprattutto se lo andiamo a creare noi deve essere letto dall'autore perché a me dà un enorme valore aggiunto sentire il pensiero di Giulio Gaudiano detto dalla voce di Giulio Gaudiano chi meglio di lui potrà dare il tono giusto potrà scegliere quando infervorarsi quando essere tranquillo quando essere insistente non c'è niente di più bello che un audiolibro letto dal suo autore anche su Storytel io preferisco leggere anzi ascoltare quei libri letti dall'autore del libro mi piacciono tantissimo ho visto prima The Wolf of Wall Street letto dall'autore del libro quindi direi che la scelta ottimale è che l'autore del libro legga anche l'audiolibro realizzi l'audiolibro ci sono altre possibilità naturalmente il lettore dell'audiolibro deve essere un lettore professionista quindi gli editori hanno dei loro professionisti di riferimento molte volte sono doppiatori che vanno a leggere il libro o attori professionisti ma c'è tutto un trend in crescita di professionisti della lettura di audiolibro che oltre a sapere utilizzare la propria voce sanno anche come produrre un audiolibro perché ritiene che gli audiolibri in Italia destino sospetti allora questo è interessante prima di tutto è vero che gli audiolibri in Italia destino sospetti boh non lo so io forse direi anche di no gli audiolibri non credo che destino sospetti a me piacciono gli audiolibri sento tutte persone gasatissime che quando scoprono in questi giorni mi stanno ringraziando tanti che scoprono Storytel per esempio Giulio ho scoperto Storytel grazie a te mi sto ascoltando un sacco di audiolibri quindi non li vedo sospettosi nessuno mi ha scritto Giulio ma sei sicuro che Storytel è sicuro non può succedere qualcosa di male non vedo le persone sospettose rispetto all'audiolibro diciamo per rispondere alla tua impostazione che in Italia molte volte il libro è visto come un forziere cioè come un contenitore di informazioni di sapere piuttosto che come una porta come l'accesso a un contenuto con l'esperienza di vita in Australia per esempio nella biblioteca di Campbelltown che è diciamo la zona vicina a dove abbiamo vissuto in Australia nella biblioteca di Campbelltown sono tornato da poco mi hanno mandato un'email o abbiamo comprato il libro che ci ha richiesto perché per loro ogni libro è una porta una porta per entrare in un mondo quindi se quella porta è di carta o quella porta è di bit attraverso un file audio di megabyte con l'ebook è uguale sempre una porta l'importante è quello che sta dall'altra parte ecco in Italia siamo credo ancora un pochino ci scherzavo con Marco Montemaglio che per tanto tempo ha fatto i video con i libri dietro il libro richiama visivamente il sapere c'è la biblioteca allora la sei lunga possiedi un libro allora vuol dire che sai quelle cose mi dà l'idea se proprio mi devo agganciare a quello che mi dici però io tutti questi sospetti se devo essere sincero non li vedo quali passi scusami magari c'è meno mercato ma perché meno persone fanno gli audiolibri allora spero con questo episodio di stimolare altre persone a creare audiolibri domanda successiva quali passi deve fare una casa editrice per inserirsi in un nuovo progetto beh io direi prima di tutto conoscere le piattaforme finali di distribuzione cioè conoscere amazon audible quindi amazon come posto dove comprare gli audiolibri audible come posto dove iscriversi per fruire degli audiolibri story tell come posto dove iscriversi per fruire degli audiolibri itunes come posto dove acquistare gli audiolibri quindi devo conoscere il negozio finale dove questo audiolibro verrà portato alle persone e possibilmente essere anche un ascoltatore vorace di audiolibri per capire qual è l'esperienza perché solo dal comprendere com'è l'esperienza d'utilizzo posso migliorare l'uso e offrire valore quindi direi la casa editrice prima di tutto deve conoscere benissimo le piattaforme dici ma è scontato no non è scontato te lo dico con assoluta certezza e conoscere benissimo il prodotto in sé la categoria in sé perché le persone devono essere chi lavora in una casa editrice di audiolibri dovrebbe ascoltare almeno un audiolibro al giorno proprio per contratto per conoscerlo molto bene poi e questo l'avevo preannunciato prima è fondamentale oggi a una casa editrice indipendente ma anche a un self publisher conoscere ACX che cos'è sto ACX non l'ho mai sentito ACX sta per Audiobook Creation Exchange ed è una piattaforma creata da Amazon il nostro amico Jeff Bezos ha pensato di creare una specie di borsa della voce un exchange un luogo dove da una parte ci sono quelli che hanno i contenuti che hanno i libri dall'altra parte ci sono quelli che hanno la voce e la sanno usare per produrre gli audiolibri bene Amazon attraverso questo sito ACX naturalmente ti metto il link nel noto dell'episodio mette in comunicazione questi due soggetti e permette a chi ha un libro di creare un audiolibro in maniera professionale e vederselo pubblicato sulle maggiori piattaforme su Amazon perché non a caso è Amazon che così come ha creato Create Create Space prima ora non c'è più non mi ricordo manco il nome ora è diventato Kindle Direct Publishing ecco così come ha creato la piattaforma per pubblicare i book e libri in self-publishing attraverso Amazon ha anche creato ACX per pubblicare audiolibri attraverso Amazon quindi deve conoscere le piattaforme di distribuzione il prodotto il cliente finale l'esperienza di utilizzo e le piattaforme di produzione dopodiché io direi deve specializzarsi ci vuole un focus cioè oggi non ha senso la casetrice che pubblichi tutto ti devi specializzare in audiolibri di allevamento di animali domestici audiolibri di escursioni in città audiolibri di non lo so cura dei funghi che nascono nelle cassette dei vasi ti devi specializzare su qualcosa e curare delle collane portando così di nuovo l'editore nella posizione di quello che è anche un ricercatore un mediatore culturale che prende le persone che sanno le cose magari che hanno scritto dei libri o che hanno intenzione di scriverli e gli permette li aiuta li supporta li consiglia per la creazione di un contenuto che poi sarà fruito in questo caso attraverso l'audio e li aiuta poi anche nella promozione quindi un ultimo step sarebbe anche la promozione di questo audiolibro perché la casa editrice può permettersi di comprare per esempio degli slot su di pubblicità su podcast video blog organizzare interviste fare attività di ufficio stampa quindi questi sono i passi cliente finale esperienza di utilizzo prodotto piattaforma di distribuzione piattaforma di produzione nicchia quindi teme tema specifico scelta di campo e anche creazione di un brand e piattaforma di promozione diciamo strategie di promozione e marketing gli audiolibri pubblicati hanno riscosso successo i miei audiolibri pubblicati hanno riscosso successo la risposta è sì hanno riscosso un doppio successo numero uno hanno venduto che non è male quindi ho raggiunto persone nuove numero due mi hanno fatto vendere più libri cartacei perché alcuni scoprivano l'audiolibro su audible magari nel trial di 30 giorni e poi compravano il libro per averlo lì sotto mano come un manuale quindi hanno riscosso successo direi proprio di sì tramite quali dispositivi si possono ascoltare i vostri audiolibri si ascoltano attraverso lo smartphone fondamentalmente cioè la figata dell'audiolibro che lo rende come dire anche rispetto agli audiolibri esistevano prima degli smartphone ma oggi hanno questa impennata di parallelo col podcasting perché hai un dispositivo connesso capace di acquistare sul quale puoi mettere la tua carta di credito in maniera istantanea con la carta già collegata puoi scaricare i contenuti e ascoltarli subito magari con gli tuoi airpods o le cuffie wireless mentre fai qualsiasi cosa quindi direi che il dispositivo per l'ascolto di audiolibro è il principe lo smartphone ultima domanda quali sono i maggiori competitor in questo ambito ho già risposto i maggiori competitor nell'ambito della distribuzione di audiolibri sono Amazon Audible Storytel iTunes quello che è importante capire è che il mercato dal punto di vista invece della produzione è sconfinato perché ci sono delle case editrici come Area 51 Publishing che pubblicano audiolibri ma c'è anche tutto il mondo del set publishing che grazie a ACX è ampissimo e a disposizione di tutti quindi io credo che come molte volte nel mondo del digital sul tema audiolibri c'è ancora spazio per tutti siamo arrivati alla fine di questo episodio ragazzi che bello fare podcasting è stupendo perché oggi mentre andavo in bicicletta mi è entrato un insetto nell'occhio praticamente ho l'occhio chiuso ma posso continuare lo stesso a fare podcasting non ve ne siete anche accorti quindi vedi sono i pregi dell'utilizzare la voce no dai sto scherzando sono contentissimo eccitatissimo al settimo cielo perché questa settimana è la settimana del festival del podcasting se non sai ancora che cos'è mi sa che te lo sei perso perché siamo andati sold out con i biglietti però vai su festival del podcasting punto it se hai preso il biglietto ci vediamo a milano ehi attenzione non fa er timido se dice qua a roma vienimi a salutare sapete quanti ascoltatori di strategia digitale l'altro anno mi hanno scritto il giorno dopo il festival che bello è stato vederti non ti ho fermato per non disturbarti oh ragazzi fatevi sotto non fate timidi ci vediamo al festival del podcasting io ringrazio di cuore i produttori di strategia digitale coloro che finanziano questo podcast non sai di cosa sto parlando vuoi finanziarlo anche tu vuoi diventare parte di questa community vai su strategiadigitale.info un grandissimo grazie a Irene Truant alla coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it grazie per il sound design e anche coloro ci vediamo a Milano ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano